vai ragazzi si parte con il gameplay numero 19 di knack buon divertimento a tutti vi chiedo ancora scusa che non farò intro per un po' di tempo e saluti finali ma ragazzi capite che è solo per velocizzare un po' i gameplay sul mio canale non vi preoccupate sapete che vi voglio bene a tutti non è un problema quindi vai andiamo ah vabbè qui c'è un reperto vabbè il gioco si fa sempre più interessante la storia e tutto il resto quindi ecco knack sempre più gigante allora che bei cristalli qui posso prenderli no eh sarebbe stato troppo bello ecco lo schiaccio con una formica vabbè ecco uno due tre quattro via andiamo si si io vado sicuro ragazzi aia questo è grosso eh questo è grosso ma anche knack non scherza non scherza ragazzi stai lontano da me altrimenti finirai fulminato anzi ho un'idea perché non ci rivediamo lassù scommetto che lì troveremo gundar morire fulminato sarebbe una fine perfetta tanto lei non mi ama più beh non sono umano ma la cosa mi sembra un po' più complicata ora allontanati prima che comincino i fuochi d'artificio ok ok va bene me ne sto andando su vai che cosa vuoi che sia ho solo perso la donna della mia vita ah ok si può continuare ah ole vai carica massima di cristalli e direi di si ragazzi direi di si scappo qui scappo ma si dai conviene scappare conviene mi conviene ragazzi eccomi ok ragazzi ah ah guardate che bordello che bordello faccio con knackenji vai così si si e ora e ora è obbligatorio e vabbè ci accontenteremo di combattere in maniera normale va bene così vai knack vai vabbè i cristalli sono carico al massimo quindi non credo vai così qui la porta si sfonderà ragazzi voi che dite ah ah eh si eh si vai così brado ah lo stato brado yeah mi diverto ah ah ok 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 vai così eh però questo picchia ragazzi questo picchia ma anche knack ora si è dato da fare cosa ti racconto a questi due mossa speciale e via perché non colpisce e vabbè ah ok colpisce colpisce ok lì si apre la porta qui non c'è nulla che dite eh no pare di no ecco così va meglio occupiamoci di qualche carro armato e aereo perfetto ragazzi perfetto si si guardate che carro armato qui ragazzi ehi la ok ce la facciamo ce la facciamo dai vabbè è andato è andato è andato si vai di qua knack vai grande in grande stile brado ah non posso fare la mossa speciale vabbè mi sono finiti i cristalli e vabbè vai così si si grande eh ragazzi knack è massiccio come personaggio dai alla grande si si ma dai ho completato un altro il trasformatore ragazzi yeah yeah la mia ragazza nella sua partita ha fatto meglio di me ve lo dico ha trovato più cose più oggetti l'ha anche filo due volte il gioco grande knack ma ho poca energia ragazzi cosa faccio cosa faccio cosa si può fare eh non lo so non lo so knack hai distrutto metà del mio esercito a monverde ora sei qui per finire il lavoro perché tu mi chiedi perché tu hai distrutto le colonie umane e invaso le città e a che scopo rubare pietre e reperti knack sto riparando ai torti subiti oggi i goblin vivono in modo primitivo tra foreste e montagne ma prima delle guerre di cristallo avevamo le nostre città e la nostra civiltà io voglio soltanto ritornare a quella grandezza e io voglio solo dimostrarti che gli attacchi contro gli umani non saranno più tollerati sei il loro fantoccio abbiamo vissuto nel deserto anche troppo aiuto mi aiuta qualcuno ma quanti ne sono ma dai ne sono tre ragazzi ne sono tre vai ok bene così bene così ah ne escono altri vabbè va benissimo vediamo un po' si si grande ah beh giustamente altri due perché ci manca ahia ci mancavano e allora ce la farò ragazzi ce la farò ecco gli ho dato una una bottarella diciamo eh no e dai e dai ma dai ma come si fa dai vabbè dai ora mi concentro e facciamo tutto ok vai prima ondata finita e così via vai vai seconda ondata quasi terminata anche e vai bene così bene così grande brado ok si è aperto tutto era ora fuori uno fuori due e fuori tre no 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 calma calma Ne usciranno parecchi Non lo so Ok qui non c'è nulla ragazzi Perfetto Vado avanti avanti Yeah Ah non ho colpito il carro armato Però che Vabbè ci ha pensato Knack ragazzi Personalmente su Ah la grande Grande Sì sì Ah quante armi Vanno eliminate tutte Sì 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 Ahia 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 Cosa ti racconto E vabbè andiamo avanti poi Qualche barzelletta la inventiamo ragazzi Non è un problema quello ma Vai Guardate che bei cristalli non posso prenderli però Sono goloso di cristalli a questo gioco perché servono Servono e allora Ok vai ce la facciamo Sì 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 Ecco vai Spacco tutto Mi devo arrampicare Mi devo arrampicare Vabbè Era previsto Ok era previsto Sì 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 Shivani Beh qui si capisce che c'è qualcosa da prendere Si capisce senza problemi che bisognava andare lì Ok E ragazzi finito questo gameplay vi registro Un gioco nuovo sperando che Non ci saranno problemi di copyright Quindi Pare che Gundar diriga le operazioni Da quella torre laggiù Vado a farci due chiacchiere Sì sì Andiamo a farci due chiacchiere su Anche se è così grosso come sei La cosa mi preoccupa però E beh Aia No no Vai Ok bene così Ah brado Ho fatto un bordello ragazzi Ho fatto un bordello Ok Bisogna che mi arrampi tu qui mi sa Eh si va avanti Sì 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 Ma dove scatti Va bene L'ho preso E adesso? Non credevo avrebbe funzionato Tutto ciò che ho costruito in vent'anni La tua creatura l'ha distrutto in venti minuti Ami la distruzione così tanto dottore Quando la distruzione porta la pace sì Sì la amo Anche se sarò sconfitto La pace non tornerà I goblin si rivolteranno contro gli umani Gli eventi di oggi non fermeranno la rivoluzione No Ma la ritarderanno Un equilibrio va ristabilito certo Ma i tuoi metodi sono sbagliati Brutto cattivo Ritornerò presto Sono sicuro che lo farà Ma gli ci vorrà del tempo per riuscire a riorganizzarsi E ora Andiamo a cercare la chiave Doc non mi dà mai retta Beh Doc non dà retta a nessuno Non devi prendertela Ma lui Ti parla dei tuoi genitori? No Ti sei mai chiesto perché Doc si prenda cura di te al posto mio? Beh La risposta è semplice Tu non ci sei mai Hai ragione Sarei davvero un pessimo padre Sono sempre in giro per il mondo Lucas Tu pensi di non andarci d'accordo? La mia sorellina Cioè tua madre Lei sì che ci litigava Metà del tempo che lavoravano insieme Lo riproverava per una cosa o per l'altra Quello che voglio dire è che Tu assomigli molto a lei Sei sveglio ma Hai anche altre doti Quando gli rispondi per le rime Per farlo riflettere su quello che sta facendo È allora che sono più fiero di te Però Cerca di non giudicarlo Lui è fatto a modo suo Sei fiero di me? Molto Forza Finiamo di scaricare E andiamo a dormire Domani sarà un giorno importante Bentornati È fatta L'arsenale di Gundar è stato smantellato da NAC Ora possiamo andare a cercare la chiave E abbiamo trovato Charlotte È viva Che cosa? È viva E non mi vuole Lei è viva? Che dici? Cos'è successo laggiù? Te lo racconterò un'altra volta Allora Dov'è questo graffito? Dobbiamo attraversare quelle rovine e salire sulla vetta Il sentiero è ripido Ma stamattina io e Lucas siamo andati in ricognizione Bene Andiamo Non perdiamo tempo Ok ragazzi Allora il gameplay numero 19 di Knack Si conclude qui Spero che vi siete divertiti E adesso Surprise Surprise Quindi Gameplay numero 19 di Knack Concluso Un saluto a tutti i miei iscritti E Ciao dal vostro Diabotex ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti